IMAPEX, biancheria e abbigliamento intimo all'ingrosso. Da molti anni il punto vendita distribuisce all'ingrosso biancheria intima e per la casa. Puntando alla qualità, IMAPEX fornisce solo i migliori prodotti e le migliori marche, riuscendo anche a proporre prezzi competitivi. IMAPEX offre un ampio assortimento di calze uomo-donna, collante, magliette intime, slip uomo-donna, accappatori, asciugamani, pigiami, camice da notte, di tutti i tipi e colori. IMAPEX, prodotti di qualità e prezzi competitivi. Via Fontana Unica 79, Frosinone.